che ci possano aiutare, ma abbiamo intenzione, prima di tutto, di cominciare con il popolo. La confraternita deve attivare il cuore dell'attività, è fatta da tornare per internare. Per questo simbolicamente oggi abbiamo incominciato, non si raccoglierà i soldi per ristrutturare tutto, è ovvio. Però simbolicamente tutto si ricomincia. Questa è la parte che deve essere fatta. Noi abbiamo anche, come si chiama, pensato di aver, abbiamo aperto un conto per chi vuole, a confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola, e qui ci sarà anche il codice del conto, che verrà distribuito a tutti quanti per poter, chi vuole, fare una donazione. poi per arrivare alla fine. Il concetto serve per questo, che abbiamo iniziato così, anche con la posizione, che comunque con gioia, i giullali di Dio. Vi lascio a loro. che la ragazza è la piccola. Grazie.